Ed eccoci qui prontissimi sempre in compagnia del vostro Diabrotex, possiamo continuare senza sosta su questa nuovissima collaborazione con Plion Italia dove ringrazio personalmente tutto lo staff di Plion Italia per avermi concesso di portare Like a Dragon Infinite Wealth in versione Playstation 5 sul mio canale YouTube. Ringrazio Sara di Plion Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Like a Dragon Infinite Wealth in versione Playstation 5. Ringrazio come sempre tutti gli iscritti ma anche i non iscritti che comunque mi seguono passano per dare un po' di supporto, per lasciare un commento. Comunque detto questo il vostro Diabrotex è prontissimo per continuare perché adesso avremo una serie di battaglie da portare a termine. Allora la direzione giusta è da questa parte quindi vediamo un po' cosa bisognerà fare. Vediamo un po' ragazzi. Finito il riposino? Sentiamo. Allora vuoi raccontarci tutto o no? Io direi che dovrei darci un po' di spiegazioni. Poi vediamo un po'. E' un po' di spiegazioni. 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 Si avrei ancora un po' di spiegazioni. E' 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 un po' di più. Acagare? Questa è la base di Acagare. La città, la città, la città, la città, la città. Cosa, abbiamo anche il testo di un'amore. Cosa, abbiamo anche il testo di un'amore. Come si è? Perché i ragazzi di un'amore che si tratta di un'amore? Non so. Non me comprendo, ma qui c'è il suo lucio di un indiegamento calo d' 1919. Quindi, questo lucio è stato un po' stato annuncato. E poi, invece... Ho già voglio vedere che Balacuda ha visto che Mentre le hanno affrontato un nome di Econi. Quindi, pensé che riuscita a mirare i nostri amici per a parlare avvenuti. Quindi ho cominciato a trovare la distanze del mondo. Ah, però è stato trovato dietro alla loroAmico. Grazie a tutti 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 Non ci è voluto molto Stai indietro Cielo, che gentiluomo Purtroppo Ora siamo in quattro qui ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Allora, fermi un attimo Un attimo No, sembrerebbe che Proviamo ragazzi Si è difeso Abbastanza bene, si è difeso Si è difeso abbastanza bene Vai, vai ban ottimo ne manca ancora e ne mancano due ne mancano due ancora di avversari e le saranno anche a comunque devo ripristinare un po la vita qui e devo ripristinare un po di vitalità perché la vedo messa veramente male e la vedo messa male ragazzi si ancora tutti colpiscono lui comunque non ho ben capito forse sarà antipatico non l'ho ben capito ragazzi ma comunque va bene in questo modo via tanti saluti e passiamo a non è finita non è assolutamente finita non è assolutamente finita e no la parola fine però la mette ichiban e beh la parola fine la piazza lui qui saranno abbastanza punti no 180 punti esperienza ragazzi vai chi riusare di livello ottimo veramente ma non è finita qui tranquilli non è assolutamente finita merda non pensate di andarmi di qui sani e salvi no ma io so che dovremo affrontare ancora un bel gruppo di balordi sono pronto a tutto questo non è un problema non è veramente un problema sono prontissimo ad affrontare tutto questo ci vorrà il tempo che ci vorrà ma ma che diavolo ha attivato il sistema di sicurezza quei laser non promettono niente di buono continueremo ad avanzare cercate solo di non toccarli intesi memorizzati loro movimento dobbiamo agire con teppismo impeccabile diamoci dentro però fermi dobbiamo vedere un attimino possiamo tornare dietro andiamo a ripristinare tutta la vita ragazzi poi andiamo avanti e non me ne volete faremo giusto una breve ecco giusto per ripristinare un po il tutto però scusatemi un attimo e scusatemi un attimino perché comunque abbiamo dell'equipaggiamento che forse avanzano vediamo se no assolutamente ok ragazzi non possiamo mettere nulla però datemi tempo un attimino datemi tempo un attimino e basta non vi chiedo altro allora ok un attimino allora io direi che possiamo tranquillamente proseguire sì direi che possiamo tranquillamente proseguire stavo controllando una cosina beh andiamo ci sarà da combattere qui è si maledetti laser maledetti qui non abbiamo nulla da prendere no qui non abbiamo nulla da prendere maledetti laser che dobbiamo stare veramente bisogna fare attenzione qui ora non mettetemi fretta ragazzi perché altrimenti qui le cose non è che andranno male ma molto molto di più maremma il tutto per prendere una valigetta ragazzi avrei potuto evitarlo però giustamente voi capite benissimo che capite benissimo che qui possiamo dobbiamo raccogliere mamma mia ok molto bene dobbiamo aspettare il momento giusto che questo vai ci siamo qui è ok qui dietro abbiamo qualcosina di buono molto bene qui adesso un attimino ragazzi controllo una cosa al mio super pc un attimino soltanto un'impostazione scusatemi eh allora sono quattro nemici vediamo un po' con l'attacco fisico senza le tecniche se riusciamo se riusciremo no perché magari un po' di punti per far gli attacchi con le tecniche li vorrei conservare in caso di qualche boss un po' più estremo ecco se magari non non vi dispiace ecco ok sono rimasti comunque in due ovviamente o poi dopo questa missione me ne tornerò un po' a livellare perché andando avanti con il gioco è sempre meglio stare un po' più avanti di livello che insomma quindi ah ok che bello ragazzi ma che bello 240 punti ottimo qualcuno sale di livello no sale di rango il nostro favoloso Ichiban allora fatemi datemi tempo di vedere una cosa qui se abbiamo qualcosa da da raccogliere o meno sembrerebbe purtroppo che non abbiamo nulla da prendere vabbè non fa nulla ragazzi purtroppo non è che dobbiamo trovare per forza sempre degli oggetti dei materiali o compagnia bella quindi eh qui la missione ancora è ancora abbastanza impegnativa si è abbastanza impegnativa su questo punto di vista vediamo un po' dobbiamo girare io credevo che cos'è qui? aha materiale per creare armi avete capito quindi perché bisogna ai 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 qui bisogna girare per il semplice motivo ragazzi che giustamente servono dobbiamo raccogliere anche dei materiali per creare giustamente una chiave che ti permette di aprire una cassaforte o dei container chiusi ok abbiamo già visto una cassaforte da aprire quindi wow e adesso? e adesso si combatte ragazzi adesso si combatte vediamo un po' quattro nemici sempre folli giustamente sempre folli comunque il nostro tassista è molto incoraggiato per la battaglia qui veramente ha preso coraggio ragazzi ha preso coraggio e combatte più senza paura quindi gli fa onore questa cosa gli fa veramente molto onore ragazzi e si game over giustamente è l'attacco alle spalle è quello che conviene sempre cercare di fare sempre di più perché comunque con l'attacco alle spalle come sapete possiamo togliere più energie e così via insomma vediamo un po' vai anche il nostro super tassista sta per salire di livello ai 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 qui allora ragazzi se qui abbiamo tutto questo casino per credo che per aprire quella cassaforte che abbiamo visto da lontano infatti spero che ci sarà del materiale molto utile collarino meccanizzato dall'aspetto futuristico fermi tutti che qui adesso fermi tutti perché adesso il collarino dov'è? è un anello fermi eh dov'è il collarino? vediamo un po' eh anello fasciatura vediamo ok qui non l'ho capita ragazzi adesso non l'ho capita qui o almeno che vediamo un po' cappello cappello vabbè torniamo dietro poi magari più avanti Ichiban devi stare molto attento devi seguire devi seguire l'onda qui insomma ecco allora però dobbiamo riprendere un po' di Ichiban ragazzi devi riprendere un po' di energia perché ovviamente ovviamente allora vediamo un po' eh vai super Ichiban andiamo qui ragazzi più si va avanti è più è più un casino non so se avete visto più andiamo avanti più è un casino qui ragazzi però comunque a noi il casino piace no quindi se piace far casino possiamo andare avanti tranquillamente insomma ah cura il sanguinamento ok molto bene e ovviamente qui arriviamo arriviamo in una zona dove bisognerà far casino nel vero senso della parola qui eh vediamo un po' qui vabbè questo qui si vedeva che era meno resistente come come nemico quindi non ero preoccupato affatto infatti per quanto riguarda ora sono un po' preoccupato perché qui comunque con tutti questi valor di qui intorno insomma insomma proviamo vai proviamo la grande qui ragazzi diamogli il colpo di grazia ero convinto che con Ichiban il rispetto era dietro l'angolo via ecco adesso qui sarà un po' molto 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 bene ragazzi veramente molto molto bene non cedono così facilmente comunque non vogliono cedere così facilmente ragazzi purtroppo no vai sale di livello livello 16 ma quanto è bello vai di livello è di rango un po' di tutto diciamo diamo un'occhiata qui in giro un'occhiatina falce della lama ricurva per tagliare l'erba vediamo un po' magari possiamo usarla come arma dite non credo non credo ah un attimo un attimo ragazzi fermi chiave inglese del cervo volante qui aumenta ah ah ecco in pratica è un'arma per lei fantastico fantastico ragazzi allora recuperiamo un po' tutto qui abbiamo recuperato tutto ragazzi allora io credo che lì potrebbe tranquillamente esserci la boss fight principale quindi il vostro diabotex chiude qui un altro episodio per quanto riguarda like a dragon infinite wealth in versione playstation 5 ed in collaborazione con play on italia come sempre ringrazio tutto lo staff di play on italia per avermi gentilmente concesso di portare questa bellissima collaborazione con like a dragon infinite wealth in versione playstation 5 ringrazio sarà di play on italia per avermi gentilmente inviato un codice di like a dragon infinite wealth ovviamente in versione playstation 5 ringrazio tutti gli iscritti ma anche i non iscritti che danno supporto e che mi seguono sul mio canale youtube detto questo vi ricordo che magari se vi farà piacere di lasciare un like un commento condividere il gameplay ed iscrivervi sul mio canale youtube grazie di cuore a tutti andremo avanti molto presto l'episodio si conclude qui ciao e grazie a tutti per il vostro fantastico supporto